Se ci sono le qualità, mi diceva Marco Cesia, il ragazzo è esso, no? Parliamo di nazionale. Mercoledì gli azzurri hanno questo grosso impegno contro il Portogallo. Chi avresti voluto vedere tra i convocati che non sono stati chiamati dal mister Sacchi? Di lei? Sì, del Toro, perché io sono un fede... Anche Marco Santoro. Oh, Marco Santoro, certo, perché no, perché no. Magari con la nazionale di Maldì, in un futuro prossimo, mi auguro questo qui. Un'ultima domanda, visto che... Per fare una nuova puntualizzazione, tu hai detto, auguriamo a Marco Santoro di poter arrivare, eccellenza, campionato nazionale italiano, Ciduno, Ciduno, Ciduno. Ma auguriamo che possa arrivare anche in Cidia, così la vostra per tutte. Sì, tanto possibile. Va bene, va bene, auguri Marco.